Wasteland 2 Perché mi stimola molto a migliorare l'equipaggiamento dei miei omini qui Il mio equipaggio, chiamiamolo così Ho trovato anche questa sorta di cartello stradale che è una mannaia Ho acquistato, ho pagato 500 dollari questo fucile da cerchino Che fa rispetto a prima 18-20 anni, qua ne fa 68-83 E ho scoperto anche una cosa molto molto triste Che nelle scelte iniziali mi venivano dati due luoghi E praticamente, adesso questa è la mappa che ho sbloccato Ce ne sono ancora alcuni da vedere E uno dei due luoghi Non ci sono dato subito, ho fatto altro E questo luogo era infetto Ed è rimasto infetto, anzi è peggiorato E nel momento in cui io giocavo la mia missione Mi arrivavano dei messaggi radio dove la situazione stava precipitando Non gli ho dato molto peso Sono arrivato alla fine in questo luogo dopo aver finito il primo E ho trovato tutti morti Tranne uno che poi, vabbè Mi ha detto, è tardi, siete dei buoni a nulla E poi Ranger, non è Il bello è che io quando giocai questo gioco Visitai quel luogo come primo luogo Ed erano ancora tutti vivi Era veramente tosto E quindi ho dovuto, vabbè, insomma Quello che è successo è che ho recuperato Dovrebbe averla lei, già zia, il medico Dovrebbe avere un tipo un nebulizzatore Che è questo Un erbicida Con delle cure Siero E vedete che ho ancora due persone Che hanno bisogno del siero Ma al momento Comunque Ci sono 11.000 secondi rimanenti fino alla fine Non so se alla fine di quegli 11.000 secondi La malattia viene debellata O uccide E rimedie Il mio personaggio Comunque al momento Temporeggio Perché questo siero Mi servirà per liberare alcune zone Infatti Avevo deciso di tornare alla cittadella Perché non l'avevo mai vista Anzi Non sono neanche sicuro di averne diritto Ad entrarci E mentre eravamo qui Vicino a questo oasi È arrivato messaggio radio Con Guardate L'epidemia Non è solo dove l'avete scoperta Ma si è diffusa In una zona E infatti qua c'è una fattoria Ed è quella che andremo adesso A visitare insieme Io non l'ho mai vista Quindi L'affrontiamo insieme Vediamo che cosa riusciamo a fare Sono anche ansioso Di provare Il nuovo fucile Da cecchino Vorrei finire Di mettere un po' di equipaggiamento Allora Allora a lei ho messo Questa che gli toglie uno Del leccaculo Ma in realtà Non è lei Che fa La leccaculo Che brutto Detto così Abbiamo Questo che è un altro Tipo di Un ciondolo Che dà Un più 3 Alla probabilità Di critico Però in realtà A Garrett Il cecchino Ho dato questo Che dà Meno 10 alla schivata Ma più 5% Di colpire a distanza Quindi direi che Gli va bene C'è anche questo Che è un occhiale Che Più 5% Di probabilità Di colpire E io Vorrei vedere se Ah no Meglio equipaggio Al posto di questo Quindi direi che L'occhiale Lo diamo A qualcun altro Direi che potremmo darlo Lui ha un più Uno a leccaculo A spaccaculo Scusate Quindi forse no Magari a lei Lei No Lui Ok sì Abbiamo trovato La persona Qui dare gli occhiali A A Steve Gates C'è anche una granata La granata La voglio dare a lui Che magari se la cava A lanciarla E diamo Gli occhialoni A A lui Allora Mannaggia Ok Occhialoni Ok Poi Perché non li mette Non puoi Perché Ascetta Non puoi equipaggiare Ah Mannaggia Le avevo dato un talento Che non potevo equipaggiare Vero Vero Tra l'altro Sui talenti Ho dato Uno scorchone Cibernetico a lui Cioè praticamente Lui ottiene Celle di energia Quando usa L'abilità dell'informatica A lei A già sia Ho dato Convalescente Un p10 Efficace Di oggetti curativi Al Nostro weapon Ho dato Full metal jacket Come vi avevo detto La volta scorsa Quindi più uno Alla penetrazione Alla armatura E a gare Ho dato Sentinella Cioè praticamente Non ha Nessuna penalità A colpire Quando è in modalità Imboscata Comunque La mappa Adesso l'abbiamo Tutta oscura Andiamo a vedere Che cacchio Succede qui Vediamo che cosa succede Poi ovviamente A fine video Se non resistete Fatemi sapere Prima Fatemi sapere Se volete Un proseguire Dell'avventura Ovviamente Non lo sto facendo Come serie Perché ovviamente Vi sarete già persi Praticamente tutto Quindi Insomma Vabbè Comunque Mannaggia Dovevo sparare prima Comunque va bene Insomma Volessimo farci Una serie Come qualcuno di voi Chiedeva Dovevo cominciare Da capo Insomma Io Ho deciso Di portare I giochi Su questo canale In base a quelli In cui me la cavo Magari un pochino meglio E Sono un po' più bravo In modo da evitare Trafalcioni Comunque Garrett Ha la portata La portata a questo Che è un 76% Di essere colpito Direi che lo proviamo Che cacchio Cioè Ha fatto filotto Cioè Li ha uccisi tutti Ah no 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 Vi spiego perché Perché questi tizi qui Sono pericolosissimi Da vicino Perché esplodono E probabilmente Loro avevano Queste vespe Avevano Pochissima vita Quindi insomma Adesso Lui spara da vicino E non gli fa Praticamente niente Quindi Non aveva un altro Vabbè Adesso Temporeggiamo Vediamo Dobbiamo In qualche modo Poi andare a purificare Questa zona Inserendo Se ha una modalità Di C'è un sistema Di 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 D'aria Di refrigerazione Inserire Quella Quell'antiloto Insomma Come in ogni film Che si rispetti Allora Adesso Lei ha Due armi Tra cui Anche il fucile a pompa Quindi io farei Andrei di fucile a pompa Perché fa 18-20 danni La pistola Fa molti meno Sì Vabbè Ma col 70% Non colpisci Vabbè La Marakov Di Steve Gates Gliel'ho Gliel'ho Data da poco Dovrebbe fare Danno comunque Più alto Rispetto alla pistola Classica Se riuscisse a colpire Una qualche volta Perché qua Si sta mettendo Veramente male Perché stiamo facendo Tutti il ciapanò E si chiama anche Di finire molto male Allora Il cecco Ha un 1% di colpire Però un 31% di colpire Il tizio là Allora Che io sappia Non ci sono Grossi Grossi Malus A muoversi Lontano da un nemico Quindi io lo faccio E aumento la percentuale Direi che possiamo provare A colpire lui Col 76% Che ha fatto un bel botto E' un gran fucile questo Tra l'altro Steve Ha 8 punti Dovete far sempre Attenzione a questo Adesso appena finiscono Il movimento i nemici Ve lo faccio vedere Voi avete questi punti azione Steve ne ha 8 Al momento 0 Comunque di base Ne avete un tot L'arma ne chiede 7 Per poter sparare Quindi Se equipaggiate un'arma Che vi chiede 9 punti E voi ne avete solo 8 Non sparate Cioè dovete Forse attendere un turno Accumulare dei punti Se è possibile Ma devo ancora scoprirlo Questo gioco è Davvero un'autentica scoperta Per me Allora facciamo un passo Laterale Cazza Ora no Da qua lo colpivo meglio Vabbè Rischiamo di colpire anche Steve Ma va bene Perfetto Molto bene Abbiamo bruciato dei punti Allora lei ha Nell'immediato Una pistola Con cui può colpire Magari facciamo un passo indietro Con il 35% di colpire Direi di no Ricaricheremo il fucilazzo A pompa Prossimo turno Comunque Steve potrebbe Porre fine alle sofferenze Di questo tizio Con il 67% Manca Forse No 3 colpi 2 sbagliati Va bene Lui si accanesce Sulla nostra Dottore No Su Gareth Che non è messo Proprio benissimo E vediamo se può fare Il miracolo Ma che cacca Ma Che nervoso Non si muove Vabbè Vabbè Abbiamo perso un turno E semplicemente perché Non sono riuscito A muovere la telecamera E onestamente Non so nemmeno il perché Comunque Avrò inserito Qualche modalità strana Non lo so Comunque adesso Cercheremo di uscirne Da questa In questo modo Un po' così Adesso Si è ripreso Un baghettino Alla telecamera Ok Quindi Ho sparato E non l'ho colpito No Forse Colpiamo ora Sto colpendo No 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 Perfetto E viene male Perché qua Allora Il cecchinazzo Non ce la fa Deve spostarsi Spostati lì 76% Direi che se lo uccidiamo Facciamo un bel botto Eh si Facciamo male un po' a tutti Tu ricarica Il fucile a pompa E non abbiamo punti sufficienti Dopodiché ci spostiamo qua E spariamo col cono Non andiamo a colpire tutti e due Quindi Magari Buttiamoci già Un po' In qua E Steve potrebbe Oh mannaggia Hanno fatto male Gli ho fatto molto male Comunque un altro colpo Spariamo a lui E l'arma Si inceppa Vabbè Vabbè Ho anche ritoccato Due armi E poi vi faccio vedere Vabbè Intanto Tu Sono Oh abbiamo fatto Un critico fortunato E Infatti Abbiamo potuto Fare due colpi La cosa Bella Adesso Scusate Che possiamo Possiamo Dei punti Comunque vabbè Ho mancato Ho colpito quasi La mucca rieta Vabbè Fucilazzo a pompa Direi che il 70% È una buona Percentuale Abbiamo colpito Tocca Il tizio qui Steve che Sblocca la sua Marakov E spara Che manca Ok Ci siamo fatti tutti Un po' male Però va bene Abbiamo fatto Quasi tutti Il livello Quindi molto bene Perché adesso Andiamo Spolpiamo Tutti i corpi E poi Chiamiamo in radio Così aumentiamo di livello Riferiamo che Alcuni di noi Sono saliti di livello E due di loro Infatti sono saliti Allora Ora Andiamo a vedere Anche queste Vespone qui Che avranno sicuramente Qualche parte Del corpo Che possiamo poi Rivendere Come cianferosaglie Qua c'è C'è seppellito qualcosa Qui Ah Vediamo un po' Se riusciamo a Perché ho comprato La pala Vediamo se Si può utilizzare Allora Usa E la uso qui Non l'ho mai fatto Vediamo se funziona Perché pensavo fosse Autombe Invece mi è venuta L'intuizione ora Ok abbiamo trovato Uno specchietto Portatile Va bene Molto interessante Ma va bene Un bel save Ok devo sempre controllare Perché l'F9 Mi disattiva la registrazione Quindi Allora Adesso U Allora Save ancora Ossessivo Ossessivo compulsivo Col tasto Z Evidenziamo Abbiamo la Cos'è quello Vabbè Intanto Apriamo qui Che ci saranno Dentro munizioni Infatti Allora Le 5,6 A weapon E la pistola Le diamo a Steve Steve Sto cavando Sto bene Ho creato Un bel gruppo Perché alla fine Riesca fare un po' Di tutto Allora c'è una piccola Valvola di emissione Posta sul lato Del fertilizzante Ok Versare il siero Nella valvola di emissione Sì Perfetto Abbiamo guadagnato 62 punti Quindi direi che Diario aggiornato Vediamo cosa succede Abbiamo riversato Una dose del siero Nella dottore Dottore saloso Nell'impianto Eregazione Tutti gli abitanti Erano già stati Infettati Eh mannaggia Quindi Adesso Non abbiamo finito Di esplorare Credo Perché dovrebbe Eserci ancora Altro Infatti C'è Una cassaforte Lì sul tetto E due casse Qua Allora Intanto Vedete qua Ho dato La forza brutta Giazzia Al medico Perché così Almeno Potrebbe Sfondarla Nel caso In cui Non dovesse Andare bene Fortunatamente Non ci sono Grimaldelli Da consumare Qui Allora Stiamo scassinando Ed è entrato Un falcetto Lo prendiamo Che Lo andiamo a vendere Mentre invece Qui Ci sono Dei simboli Medici Giazzia Si portava via Il medico Ormai Ho imparato A distinguerli Un po' Allora Direi che Possiamo salire Di sopra Sopra qui E vediamo Cosa c'è Vedete Comunque sul tubo Lo fanno in pochissimi Questo gioco Mi fa piacere Portarlo Allora Intanto Facciamo una bella scansione Serratura Combinazione Ci è utile Questa Perché nel caso In cui ci fossero Più scelte Che so Il disco Dove il computer Quindi l'informatica E questo La percezione Ci consentirebbe Di capire Che tipo di serratura E quindi Apparirla correttamente Se ad esempio Ci esce Ci dice Potrebbe esserci Una trappola Esplosiva Disinneschiamo Comunque Il 93% Si fa avanti Gareth Dice Sono io L'uomo esatto Per fare questa cosa Lo fa Il 93% Di possibilità Di riuscita E perfetto Abbiamo trovato Una midnight special Che adesso La diamo a Mastiv Con la pistola E altri occhiali Adesso Li facciamo scendere E poi diamo un'occhiata Alla pistola Alla Marakov Di quella Di coltizio lì Che Vediamo Allora La Marakov Fa 10-15 di danno E questa fa 14-20 Direi che La Marakov Va in pensione Magari 10-14 10-15 Magari Questa la possiamo smontare Disassembla La disassembliamo E otteniamo Una percentuale Quando abbiamo raggiunto Il 100% Otteniamo l'oggetto Che ci dice Esempio Noi smontando questa Otterremo Il 50% Di mirino piccolo E il 50% Di scarti Quando poi Svoltiamo Un'altra arma In questo caso Possiamo smoltare Questa Ci dice che Ci dà Gli scarti No In realtà Non ne ho la certezza Cioè È una percentuale Di riuscita Poi non so Se è cumulabile Con altre Comunque In pratica Si ottengono Dei potenziamenti Per le armi E infatti Se andiamo a vedere Alcune armi Hanno un simbolino Vedete Qua l'ho potenziata Gli ho montato Un caricatore robusto E ha un meno 4 Percentuale In meno Di incepparsi Questa pistola Invece Ha una canna corta Che gli ho montato E ha un meno 4 La gittata Meno 4 La gittata Meno 2 La gittata Ottimale Ma un più 4 Per colpire Quindi è È un ottimo Potenziamento Io non ho ancora Ben capito Se qua abbiamo finito Perché abbiamo fatto La cisterna Torniamocene indietro E magari diamo Ancora un'occhiatina In giro Vediamo se Se si può fare altro Qua Ma non credo Perché non Non c'è una zona Visitabile Quindi credo Che sia stato Fatto tutto Quello che si poteva fare Non so se ci sono Adesso dei Dei segreti Qui da Da scoprire Le porte sono chiuse Però Perlomeno abbiamo Abbiamo Depurato Tutta la zona E evitiamo Che succeda Quello che è successo In altre zone Con Degli uomini Cettaiolo Degli uomini Pomodoro Insomma Delle cose Veramente bruttine Da vedere Ma Che ci hanno comunque Fatto ammalare Praticamente tutti Adesso Va bene Abbiamo fatto Quello che dovevamo fare Dobbiamo mettere i punti Però Prima ancora Adesso Ce ne torniamo Alla villaggio Per un save Ci fermiamo All'oasi Che riempiamo Nuovamente L'acqua Dovremo andare Anche qua Alla prigione Però la prigione È molto lontana E Non sono Convinto Di Andarci Immediatamente Magari prima Si va a fare Ancora un po' D'esperienza Adesso Andiamo Verso la cittadella Magari Passa un po' Svelto E vediamo Se possiamo Entrare Nella cittadella Perché prima Non ci facevano Entrare Ora vediamo Vediamo se abbiamo Guadagnato abbastanza Livello Per poter Avere Accesso Cioè Abbiamo dato Una missione Da fare L'abbiamo Fatta Diciamo Per metà E Adesso È fatto Molto bene Il gioco Anche a livello Di background Per quanto I personaggi Non abbiano Una vera Propria Storia Ma La parte La parte Interessante È che Possiamo Ecco Il poligone Di tiro Ok Andiamo Di qua Ok Possiamo Come dire Capire Quello che Gli altri Personi Pensano Di noi Squadra Ecco Ok Vado Andato Per i piani Bene Riusciti Non c'è tempo Per le chiacchiere Ha un lavoro Da fare La squadra Eva Ha un lavoro Da fare E quindi Come fare A me Vediamo un po' Se possiamo Reclutare uno Di questi No No Allora Voglio andare All'emporio Adesso Che dovrebbe essere Di qua Del ponte Perché Vediamo Che cosa Si vende Che cosa Si può Dare Via Insomma Allora Perciò Riconoscerti Qual è La tua Storia Vedete Lui spiega C'è Ha fatto Molto bene Anche i dialoghi Sono tradotti Bene Insomma Parla Della Cittadella Del deserto Forse Non sarei in grado Di partecipare A una missione Ma scoperta Una esperienza Da vendere Quando si tratta Di preparare I pasti Vedete Che qua Si sbloccano Qua mi ricorda Molto Morrowind Che aveva Questo sistema Qui Sono usato Un trapano Colonna meglio Di chiunque Altro Per il resto Per questo Che il generale Vargas Mi è incaricato Di aiutare Il sergente Melson A gestire I fornimenti Di tanto In tanto Anche il capitano Mark Captain Nell'officina Viedo scusa Ma È un caldo bestia E non posso neanche Accendere 28 ore Perché comunque Poi si sente Il microfono E infatti Si sente Qui Allora Cose interessanti Ci sono Tutte le antiradiazioni Scadenti Sono molto utili Perché nella mappa Grossa Ci sono zone Inaccessibili Se non sotto Grandi dosi Di radiazioni C'è un mirino Più 3 metri Gittata massima Che sarebbe Molto figo E costa 107 Allora Iniziamo Vendendo le Cianfusaglie E poi Vediamo La pala Su punto Me la tengo La granata La teniamo Allora Io voglio Comprare un'arma Energia Perché Ho già Tante celle E soprattutto Fanno un danno Potentissimo Quindi Io vorrei Però Non lo so Dai Facciamo così Vi compro questo C'è anche una statuetta Di Akita Ah vabbè Le dà un bonus Amico degli animali Quell'abilità Allora Compriamo il mirino E Adesso Sì sì Va bene Allora Adesso Andiamo a prendere lui Weapon Che dovrebbe essere Lui Almeno Vado a vedere Poi assegniamo anche i punti In armaiolo Infatti Ha due punti di armaiolo Allora Ad armaiolo Io vado Da Garrett Prendo il fucile Glielo do A weapon Poi non mi ricordo Chi si è comparato Ma credo lui Sì A lei Ho messo anche Baratto Infatti abbiamo 3% di abilità Di baratto In totale Allora facciamo così Equipage No Applica la modifica No richiede 3 armaiolo Allora Ok Armaiolo 3 Quindi lo portiamo A taria di armaiolo Assegna Spegna due punti Quindi a questo punto Possiamo farlo Perché ci si è abilitata Applica la modifica Su questo fucile A un M24 Lo applichiamo Esce il blocco Stima Poi mi ricorda Che è la quarta arma Che modifico Ok E lui è felicissimo Perché comunque Adesso è una portata Maggiorata Di 2 metri Di 3 metri Anzi Quindi è Lui sta venendo fuori Un figo Adesso Potenziamo anche gli altri Allora Garrett Abilità Abilità A 3 punti Da distribuire Direi che Non vado a Ad aggiungere Altra roba Direi che Potrei potenziargli Fucile a cecchino Con 4 punti Diventa un tiratore Concentrato Direi che aspetto Perché mi costa 4 punti Aspetto il prossimo turno E magari Glielo do al prossimo Tanto si sale Anche piuttosto velocemente Ci sono addirittura Dei talenti Che si danno all'inizio Che per i primi 10 livelli Tolgono Dei punti E dopo i primi 10 livelli Quindi si va avanti Non so quanto sia Il level cap però Allora Weapon Gli abbiamo prima messo il punto Almeno Non credo Abbia punti talento Poi da mettere No Si prenderanno I 5 livelli Così occhio Giazia A 0 punti Perché non è livellata È vero E a 3 punti Invece il nostro Steve Che è molto bravo In informatica Ha fatto Esperto di robot Qua diventerà Smanettone Non voglio sapere cos'è Sì Io direi che Ho dato un'abilità Anche a Non mi ricordo più A chi A lui A Garrett Gli ho dato l'abilità In medico Perché Il nostro medico Ha un'abilità Al momento Che ne potenzia La capacità di cura Ma gli impedisce Di Curare se stessa Ah eccolo qua È bello rivedervi Recluter Generale Benvenuti Alla cittadella E si entra E si entra Incredibile Ci siamo guadagnati D'accesso Alla cittadella Perché questo qua Era il luogo Di inizio Dove Un uomo Del nostro Gruppo Era morto E noi Dovremmo capire Come Cosa l'avresti Ucciso E pare Si è stato Un robot Comunque Dalla cibernetica E tutto Insomma Diventerà Molto interessante In futuro Spero di trovare Delle missioni All'interno Di questa cittadella Che tra l'altro Non ho mai visitato La sto vedendo Adesso insieme a voi Attenzione Capitano Hunter Squadra eco Giusto È bello Faccio un nome Sono capitano Hunter Squadra Delta Perfetto L'altra squadra Non assomiglia All'altro Che abbiamo incontrato Capitano Questo perché Ma deve parlare lui Perché ha spaccaculo Questo perché Non siamo diversi D'altra squadra Che Noi siamo diversi Operazioni speciali Ah ok Beh diciamo solo che La squadra ranger Sì perché Le abbiamo chiesto Che cosa Li rende speciali E Sì Va bene Arrivederci Già finito Così ci vediamo Amico Sì Ciao amico Allora quello lì è Sebbene queste massicce Porte dell'ascensore Simili a una camera Avvenata Siano state lucidate Ci sono bruciature Vabbè Se serve un C4 Non lo useremo noi Il C4 Insomma Allora qua abbiamo Ah bello Abbiamo la sala radio Ve la faccio vedere Giusto così Per Questa è La sala radio Bentornate a cittadella Recruiter Poi me la Me la spolpo bene Nella partita Quando vado avanti Qui abbiamo Melson Mi ricorda molto Quello di Dying Light Ok Vediamo Vecchio Lavavo la spacca In che senso Lavavo la spacca Eh sì Qua sta commentando Su quello che abbiamo Che abbiamo scelto Io non voglio Spoglierare nulla Però vorrei comprare Quindi Magari Equipaggiarvi Date un'occhiata A quello che abbiamo Ok E vendono Armature Cosa che non ho visto Fino adesso In vendita Quindi C'è anche un'arma Fucile impulsi Arma energia Costa 524 Mamma mia Ragazzi Quante armi No il gioco è fatto Veramente da dio Anche se Non è Uno stile Di gameplay Moderno Ma non è neanche Così tanto vecchio Da non essere giocabile Perché sono uno Abbastanza dei gusti Difficili E devo dire Che mi sta piacendo Troppo vecchio Per quanto non è Difficile Non è scusate Troppo vecchio Come concetto Ecco Questo invece Questo invece Scusate Da dove gli parlo Posso aprire Ok Entra Posso andare di qua No Va bene E no Dicevo Non è È un po' Un vecchio stile Ma non troppo Insomma Perché Non è che Ha delle idee Astruse Un pochino Uscite di moda Va È un bel gioco Sicuramente Bello ampio Io vi dico la verità Lo sto giocando a facile Non è frustrante Perché l'importante È che il gioco Non sia frustrante E a livello Appena sopra il facile Diventa di una difficoltà Estrema Se non si prende giusto Il combattimento Fin da subito Due attacchi Si muore Qua Bene o male Si rischia Però il gioco Resta comunque divertente Bisogna usare la testa Comunque È difficile Proprio morire Disfatta Però diciamo Che ho avuto Gente ferita Gente malata Quindi direi Che dà la sua Discreta soddisfazione Perché io non voglio Stressarmi Cioè non voglio Passare sei mesi Su un gioco Cercare di superare un boss Io voglio divertirmi Insomma Credo che Per la maggior parte Dele persone Sia così Sta ancora commentando La nostra Ah ok Qua Sto consegnando Una gamba robotica Che ho trovato Ed è una quest Che ho in sospeso Dall'inizio del gioco Adesso scusatemi Ma devo accendere Per forza l'aria Perché sto morendo di caldo Allora Diamoci un'occhiata Allora Aspettate Quasi Ve l'ha già detto Il generale Era così contento Che avevate trovato L'assassino Che mi ha autorizzato A segnalarvi Un ordine di acquisto Potete scegliere Tra alcune mie creazioni Più interessanti Vediamo un po' Vediamo un po' Dei pezzi molto carini Vediamo Vi ha segnalato Un ordine di acquisto Per aver condotto Una meticolosa indagine Sul luogo dell'omicidio Dunque C'è un ordine di acquisto Ha segnalato Vostro nome Ok Ah un dollaro Ci vende tutto un dollaro Ma che cazzo Non me ne faccio L'ombrello ci dà 20 di acqua in più Il coltello Da combattimento Ci dà di più Questo È tutta roba Che avrei dovuto Prendere prima Adesso ho già Quindi io prendo L'acqua in più Sì Vabbè Ok Magari facciamo altre missioni E mi ce ne da altre Non so Ordine di acquisto No Non c'è nessun ordine Nel nostro nome Quindi dobbiamo Comunque eventualmente Pagare Dovremo approfondire Tutta quella Che è la parte Cibernetica Robot Perché potremmo avere Al seguito Anche un robot Che dovremmo comunque Dovremmo fargli manutenzione Wasteland 2 Si sta rivelando Un'autentica sorpresa Per me Spero Anche per voi Spero vi sia piaciuto Vedere questo secondo gameplay Rimango aperto Per farvi vedere Eventualmente Altre cose Altre ispezioni Non lo stiamo giocando Tutto in serie Io vi riassumo un po' Si fa una sorta di Nelle puntate precedenti È una cosa del genere Però ecco Lo facciamo giusto Per intrattenervi Per farvi appassionare Al gioco Io non voglio Non sono di quella mentalità Dove Vi mostro tutto il gioco Vero poi che senso ha A parte che non sto lavorando Per chi ha prodotto il gioco Però mi sembra giusto Che uno non è che si guarda il gioco Per spoilerarselo tutto Uno guarda il gioco Perché vuole farsi un'idea Di quello che ha da offrire E io ve lo mostro In più sfaccettature In più momenti diversi Magari riassumendo Senza spoilerare troppo O se E questo varrà anche per il futuro Se sto per spoilerarvi Ve lo dico Così almeno Evitate E saltate O chiudete il video Ragazzi Attendo come sempre Trepidante Un vostro commento Qua sotto Di cosa ne pensate E noi ci sentiamo Al prossimo video game play Alla prossima ragazzi Ciao ciao Ciao